eccoci qua amici bentornati per questo nuovo video stiamo iniziando un nuovo gioco quindi sarà una nuova serie di gameplay tutta per voi e andiamo a scoprire questo gioco che è uscito da pochissimo non mi sono spoilerato nulla stiamo parlando di handling extinction is forever si tratta di un gioco in cui noi siamo pammavolpe dovremo salvare i nostri cuccioli dall'estinzione e andiamo subito in gioco iniziamo subito e facciamo i primi spazio per interagire ah lo devi spostarti ok cosa dobbiamo fare c'è un incendio shift per correre dobbiamo scappare no povera mamma volpe cervo alta allora questa grafica così cartoon a me piace un sacco no alta ripetuta ah ripetutamente per scavare corri 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 no dobbiamo abbandonare il bosco cosa è successo un leproteo no non possiamo lascio la scala acqua ah te ne ho premuto forza oh che tristezza povera e adesso no no eh ehi bisogna spegnere con le corna siamo salvi ma secondo me faccio un attimo una pausa vado uscito a prendere il controller perché sicuramente è più il controller della tastiera no mamma volpe no non soffrire eh sono su più i tasti però ci stavano per investire abbiamo possiamo volerlo visuale dove stiamo andando non soffrire povera in zoppa keep out non mi è chiaro cosa dobbiamo fare robot c'era la nostra tana no povera forza sparali fuori quei cuccioli per una parte due tre quattro volco tutti diversi ovviamente povera cucciolo ah se sceglie i colori una scelta importantissima questa eh si piace ho diventato mamma volpe una torre dovremmo salire piove e brucia piove e brucia piove e brucia estinzione per chiunque ammendate chiedete ho fatto poca piccola poca piccola pesce top però da punti puoi portare notte 1 te ne andrò al ciclo per i cuccioli ah qua ci nascondiamo corri ragazzi ma da i preso povero tefino porta civo la tana non mi ricordo la strada non mi ricordo la strada se vorrei capire per quanto si sviluppa questo gioco ti chiede una carta più in canna non mi ricordo la strada finisca perché lo è e cuccioli scappano iuta chiuta io non è lo suscito partisce la strada quindi quanto durano perché non vedo più il timer della notte quindi riuscì a su di notti giorno si dorme quel campo quindi il pesce sazia di più che cuccioletto so sai che speriamo un cucciolo lo so e fu così che perdemo un cucciolo ecco un bravo genio scappa stupido non ci siamo uno due tre dove è il quarto gli odori non durano bisogna sbrigarci ma è successo ma maledetta bravo il mio cucciolo ma ci va a scatola puri trovateci praticamente cuccioli non ci va a scatola con il cucciolo fate finisce a tra poco i nostri cuccioli ha bisogno di noi forza forza verso la sua strada ma il giorno prima c'era l'incendio e se c'è la neve non è un po strano forza i cuccioli sono affamati ma che carini ma che bei cuccioli che abbiamo sempre cotto per finire se lo spavento eccomi quei bambini come giulio quindi vengono con noi in cosa siamo andati eh facciam su per coccolare i cuccioli però basta bisogna andare su forza testo del cibo forza cuccioli forza sapete già notare non è che mi annegano poverini sono così tre poi faccio strada diversa ma è sempre uguale il risultato non c'è niente tutti 1 2 3 siete tutti andiamo ma ma quello che ha trovato dai piccoletti mangiate la ricerca per agli intelligenti come il vostro paponzi guardi giù 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 tutti mimetici che saranno avevamo fatto il giro questo cazzo fai siamo a casa cuccioli forse che lunga qua uh alti qua è molto più veloce forse 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 andiamo cos'è questo abitato cuccioli ok dobbiamo trovare l'altro cuccioli si parte chi ci rende giù di qua facciamo prima a far tutto cibo forse imparate anche voi a nascondervi dai su mangiate oh un tasso mamma mia che cattivo che è il cibo è mio e lo ruberemo ah ma scappate concioli mangiate avete bisogno di cibo voi altri e ora che siete pieni di energie si va a caccia di vostro fratello quindi chi è saltato per un pelo eh dai correte dai rotoli vediamo non c'è attacca un coso vivi interagiamo dai fatevi di energie ma ci può salire vediamo la strada oh si sono diventati veloci eh non ha nei rotoli qua ci siamo già passati pure qua oh oh andiamo a vedere il tasso andiamo a scoprire qua cosa c'è prima ah prima siamo passati sotto forza cuccioli non c'è tempo da perdere il vostro fratello andiamo a trovarlo imparate a scavare no cuccioli si torna a casa forza non c'è più tempo da perdere perché parte a casa nostra ok ho imparato a leggere queste informazioni a casa a dormire attenzione ah ci sono poli predatori eh oh un uovo un uovo dove vai non devi essere al gufo eh anche voi cuccioletti imparate venite e mangiate eh che signor trassola forse abbiamo trovato una borsa qua abbiamo fatto uno scambio interessante allora dopo l'ho capito l'obiettivo del gioco è ritrovare il primo obiettivo ok facciamo la pesca ok quindi lui non ha voluto il nostro cucciolo però eravamo già qua ieri quindi decidi tu quando farmi sentire maledetto cosa abbiamo trovato? ah avete litigato? una fialetta quindi non abbiamo trovato il piccolo Timmy il povero Timmy che l'abbiamo perso non abbiamo trovato il suo il suo cazzo c'è quella zampa perchè c'è un zoppo povero preso preso tapolina i miei cuccioli sono stanchi poverini infiliamoci sotto che arrivano i pescatori e la strada di casa è ancora lunga eh no eh guarda che ti mordo eh hai scelto i miei cuccioli no il signor Tass lo lasciamo ehi Timmy non devi stare indietro eh quatti quatti che c'è il gufo dai Timmy Jimmy Lorenzo andiamo dai che giorno siamo salvi torniamo là cucciola ne bisogna imparare forza devo andare a imparare la vita là vogliai sempre a pescare sta roba predo ehi tu brutto ceffo vuoi farti mordere di nuovo ok notte 1 completata cosa vuoi che tragiscono sti scemi bravi che ci siete tutti ti dà non siamo mai andati ma prima ne ho trovato uno perchè era tardi guarda da qui le luci della città io non so bene dove sia casavi ricordo spondare su una parte cuccioli a rapporto solita trappola bell'immondizia quanta cibo c'è in questa immondizia un po' di pesce marcia sempre bene forza cucci no scusa scusa signor tasso chi si è rompibale dai cuccioletti è quasi giorno e la notte sta finendo cuccioletti andiamo nanna niente raga la prima settimana da mamma volpe è completata abbiamo forse capito il senso cosa dovremo fare il primo obiettivo ovvero trovare Timmy il nostro quarto cucciolo e ci vediamo nel prossimo episodio un saluto a tutti ciao 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 un saluto a tutti